Come prima nevicata non è stata certo male. Se ne sono accorti quegli automobilisti, pochi a dire la verità, che nella notte di martedì si sono trovati in viaggio con le strade e la città che si stavano imbiancando. Il risveglio quindi è stato piuttosto romantico con i monti ed intorni completamente bianchi. Per fortuna non si sono registrati problemi per la viabilità anche perché le strade sono tornate ben presto pulite. Tutte infatti le vie cittadine sono libere e percorribili senza catene. Solo un piccolo disagio in via Chiarini per un incidente che ha rallentato il traffico. In provincia invece le cose sono diverse. La neve intanto non si è vista per niente in Baldichiane e Valdarno, mentre come prevedibile copiose precipitazioni in Casentino e Valtiberina. Gli operai della provincia sono stati impegnati soprattutto sulla regionale 71 nei pressi di Santa Mama. I passi di montagna sono transitabili con le gomme invernali o con le catene. I problemi più grandi ancora una volta sulla I-45. Il traffico è stato bloccato tra Sansepolcro e Piavesanto Stefano per alcune ore. Poi la superstrada è stata riaperta e quindi di nuovo chiusa anche perché sul versante Romagnolo le cose non stavano andando decisamente meglio con intense nevicate. Questo ha provocato la deviazione del traffico sulla viabilità secondaria creando numerosi problemi. Sulla Via Maggio ad esempio si è intraversato un camion. Alcune scuole del Casentino sono rimaste chiuse. Arezzo Multiservizi ha annunciato che se dovessero verificarsi forti nevicate scatterà il piano di chiusura del cimitero principale. Grazie. 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 Grazie.